Una città intelligente è un luogo che si trasforma in base ai bisogni dei cittadini, investendo le proprie risorse per migliorare l'ambiente, per mettere in condivisione i saperi e per incentivare lo sviluppo economico sostenibile, uno sviluppo cioè che protegga le ricchezze del territorio e garantisca un'elevata qualità della vita. È stata presentata oggi l'associazione Napoli Smart City, creata per concretizzare le opportunità fornite dall'Unione Europea, che incoraggia la diffusione di città intelligenti. Ispirandosi alle migliori esperienze europee, saranno attivati i progetti per ridurre l'inquinamento urbano, ottimizzare la gestione del traffico, diffondere le energie pulite, mettere a sistema la pubblica amministrazione, promuovere la cultura dei territori, favorire la partecipazione alle scelte pubbliche. I progetti, finanziati con fondi europei, inizieranno nel 2013 per concludersi al massimo in tre anni. Più volte abbiamo ribadito come le Smart City in realtà siano il massimo che possa esprimere Napoli o il Mediterraneo in generale. Sostanzialmente le Smart City mettono a sistema e capitalizzano tutte le relazioni presenti all'interno della città. Sicuramente c'è molto spazio per gli investimenti da un punto di vista delle tecnologie, ma l'occasione interessante qual è? Che all'interno di questo momento storico dove i big data, l'enorme mole di dati generati dai cittadini acquisisce una rilevanza strategica, torneranno strategiche tutta una serie di competenze di natura socio-antropologica dove Napoli ha espresso grandi eccellenze in passato che necessariamente non vanno in qualche modo di convertirsi. I progetti per la città intelligente faranno interagire le migliori risorse scientifiche del territorio, per esempio l'Università Federico II, l'Università Partenope, il CNR, la Seconda Università, l'Enea, la Fondazione Idis, l'Università del Sannio, l'Osservatorio Vesuviano. La città intelligente, come abbiamo detto oggi, non è un insieme di nuove e moderne tecnologie o una sommatoria di macchine. La città intelligente, quando queste tecnologie sono al servizio di un miglioramento complessivo della vivibilità della città, siano percepite dai cittadini, dalla comunità e soprattutto si muovono nell'ambito europeo della sostenibilità, che sono gli assi portanti su cui si muovono i finanziamenti europei. Un progetto intelligente si occuperà di valorizzare le risorse artistiche del rione Sanità, che si apre a turisti e visitatori, col coinvolgimento dei giovani del quartiere e delle associazioni del territorio e con l'utilizzo delle più recenti tecnologie. Un progetto che ha a che fare con la valorizzazione del patrimonio storico-artistico attraverso la partecipazione diretta dei cittadini. Importanti investimenti sono stati fatti nel rispetto delle tre T dell'Economista Florida, investimenti sulla tolleranza, sul talento e adesso l'investimento importante sul quartiere attraverso la terza T che è la tecnologia. Il progetto realizza un'installazione multimediale con tecnologia mapping all'interno del complesso catacombale di San Gennaro, una piattaforma civica per la partecipazione diretta dei cittadini, un'applicazione per iPhone e Android e una componente che decodificherà tutta la navigazione sui social network di un territorio individuato che probabilmente sarà la città di Napoli e lo trasferirà attraverso gli schermi urbani disseminati in diversi punti della città.